Vuoi capire se una ragazza che ti interessa ti pensa come tu pensi a lei? Vuoi sapere se le piaci veramente e se occupi costantemente i suoi pensieri? In questo video ti spiego come capirlo. Se ancora non mi conosci mi presento velocemente. Io sono R.D. e sono Love Coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Come dico sempre, prima di provarci con una ragazza devi capire se la cosa è corrisposta e quindi se anche tu le interessi. Questa cosa che ti ho appena detto potrebbe sembrarti una cosa scontata ma ti assicuro che molti uomini ci provano direttamente senza capire se una donna è realmente interessata. E questo è un grave errore che porta a bruciarsi e a fare brutte figure. Se vuoi evitare il 2 di picche, se vuoi evitare di essere scartato, se vuoi evitare di fare una brutta figura, è bene tenere sotto controllo alcuni indicatori di interesse che ti fanno capire se ci sono i giusti presupposti per procedere con le operazioni di rimorchi e conquista. I primi due segnali da tenere sotto controllo sono il sorriso e lo sguardo. Se quando la incontri non ti sorride e nemmeno ti guarda allora stai pur sicuro che non è interessata e non ti pensa mai. Se al contrario quando ti incontra il suo volto si illumina di un sorriso genuino e spontaneo questo sta ad indicare che è felice di incontrarti e di passare del tempo in tua compagnia. Se ti ascolta con attenzione quando le parli, se si ricorda delle cose che le racconti, se ride alle tue battute anche se sono di merda allora molto probabilmente abbiamo a che fare con una ragazza che ti pensa spesso e che è interessata a te. Se durante una conversazione lei ti fa molte domande e ti racconta di cose strettamente personali della sua vita anche questo è un importante segnale che ti fa capire che è interessata. Se non gliene frega niente di te e non ti parla della sua vita e non ti chiede cose personali della tua vita e non ti cerca mai. Se invece dopo che hai conosciuto una ragazza ti chiama, scrive su whatsapp, ti aggiunge su instagram, guarda le tue storie, mette like ai tuoi post e quindi in qualche modo ti cerca ed investe del tempo su di te allora probabilmente ti pensa spesso e sicuramente è interessata. diciamo che quelli che abbiamo appena visto sono i segnali principali, più importanti che ti fanno capire se una ragazza ti pensa e quindi sei interessata o meno a te. Se riscontri questi segnali di interesse hai sicuramente delle buone probabilità per passare allo step successivo e portare l'interazione ad un livello superiore. Se desideri approfondire l'argomento e vuoi scoprire di più su come conoscere e conquistare nuove ragazze ho creato un webinar totalmente gratuito dove ti spiego nel dettaglio come generare attrazione e come approcciarsi con le donne senza passare per il solito sfigato morto di figa di turno. Per accedere al webinar gratis ti basterà cliccare il link che trovi nella descrizione di questo video se lo stai guardando su YouTube o Facebook o sopra nell'abbio se ti trovi su Instagram. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi nuovi video sul mondo del rimorchio e la conquista delle donne. e non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti ma sono qui per farti fottere.